Sì, è lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Buon pomeriggio, bentrovati. Questa è l'ora dei discepoli della misericordia, è l'ora di pregare insieme la coroncina alla Divina Misericordia e supplicare per noi, per tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere, la Divina Misericordia di Gesù. Ciascuno di noi porta nel cuore qualche intenzione e allora le condividiamo e le deponiamo davanti al Cabernacolo del Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio e Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per gli ammalati, per quanti ci seguono in questo momento, in questa preghiera e sono nella malattia. Per i bambini ammalati, per quanti sono negli ospedali, nelle case di riposo. Per quanti sono in coma, per quanti sono in lista per un intervento chirurgico, per quanti sono in cura. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo figlio e del nostro figlio. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Ciascuno di voi affidi al Signore Gesù misericordioso le proprie intenzioni di preghiera. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio. E come sempre l'ultima decina la offriamo per i nostri defunti, per tutte le anime dimenticate del purgatorio, per i morti di questa giornata e per quanti sono in agonia in fin di vita. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale abbi misericordia di noi e del mondo intero. che hai rivelato il tuo amore nel figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore. Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chi nati su di noi peccatori risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amo. E ora vi dono la santa benedizione. La coroncina ritorna domani pomeriggio alle 15, ma vi voglio ricordare che alle 17.20 saremo in diretta qui dalla Chiesetta di Simeri per pregare il Santo Rosario a Maria che scioglie i nodi. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amo. Una buona e santa continuazione di giornata a tutti.